Puntata numero 251 di G-Style, con voi Stefano Alberto per parlarvi della nuova puntata di ricchissima. Apriamo subito con il Penelope a mare evento che porta ad inaugurare questa grande stagione estiva 2015 e ancora il Piper Club, siamo stati a Roma per il cinquantesimo anniversario di questo storico club romano. A Gifts for You, un set fotografico per futuri sposi e ancora un ospite, nei nostri studi c'è stato proprio lui, Cristian Sorbello, ci ha anticipato quelli che sono gli eventi dedicati all'estate, in particolar modo al Pescara White Wedding, questa seconda edizione che si terrà nel centro di Pescara ad agosto, quindi non mancate a seguire questa nuova idea di Ghidei Sposi. E poi Sposa Italia, collezioni, evento e promo realizzati a Milano per poi concludere con il nostro drone che dall'alto ci regala delle immagini di vari matrimoni in questo wedding mix firmato Giulio Gennari e dal suo staff. E adesso vediamoci la puntata di G-Style.